Ieri è scesa in piazza l'opposizione per protestare contro il premierato e l'autonomia differenziata perché il Senato ha dato il via libera alla riforma del premierato prima che arrivino i messaggi per dire volete una dittatura? Allora io ho preciso che l'autonomia differenziata mi lascia un po' perplesso, mi lascia qualche dubbio soprattutto perché credo che sia necessario inserire i livelli essenziali, sono quelli che contribuiscono a dare il minimo di qualità della vita per tutti, per tutte le regioni con particolare attenzione si dovrebbe mostrare quelle che hanno qualche problema, non si può dire adesso fate da soli e basta credo che non sia esattamente così la riforma, adesso la esagerano quelli che la osteggiano anche perché molti erano favorevoli anche a sinistra, poi dopo ultimamente hanno cambiato idea credo invece che il premierato, che è un'altra cosa che non mi entusiasma, cioè non me ne frega nulla sinceramente, non credo che cambi granché, solo una cosa penso che davvero possa essere positiva che è il fatto di impedire la realizzazione di governi tecnici e sapete perché lo dico? Lo dico perché Mario Monti è stato nel suo libro, lo dice, lo scrive dice io sono contrario al premierato perché il premierato impedisce al Presidente della Repubblica di creare dei governi di unità nazionale, questo a me sembra una ottima cosa e anche solo per questo dopo tutte le schifezze che abbiamo avuto nel corso degli anni mi sembra una cosa ottima, tra l'altro Repubblica titola sul fronte della Costituzione ieri c'erano tutti in piazza, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verde e Sinistra c'era più Europa, mancavano solamente i due liocorni, cioè Renzi e Calenda e beh sì, c'erano tutti, solamente quei due non si vedevano qualcuno gli ha fatto anche degli appelli a Renzi e Calenda però insomma sono arrivati, non c'erano, vediamo se riusciranno a imbarcarli comunque le percentuali anche tenendo conto di Renzi e Calenda non so se siano sufficienti a battere la Meloni, di sicuro adesso no però da qui a un po' di anni, chi lo sa, magari riescono anche a creare il famoso campo largo sono un po' ambigue le percentuali anche di Ursula von der Leyen su Repubblica se vediamo, proprio sotto il titolo o nel fronte della Costituzione c'è la foto di Giorgia Meloni con Ursula von der Leyen ecco qua, l'offerta di Ursula alla Meloni un commissario per PNRR e bilancio qual è il punto qui? il punto è che c'è l'idea di dire vabbè, per contare qualcosa noi italiani approviamo anche il partito di maggioranza Fratelli d'Italia che sta in ECR dice approviamo votiamo Ursula sosteniamo Ursula che ha fatto di tutto per venirci incontro in questi mesi e in cambio ci facciamo dare qualcosa di pesante ora io sinceramente ho molti dubbi su questa roba qui uno perché anche se ti danno un commissario poi bisogna vedere che commissario ti danno cioè un commissario da solo può cambiare poco bisogna vedere quale profilo ti accettano perché se poi quel commissario è uno come Gentiloni allora Campa Gavallo ti saluto all'attuazione del PNRR o alla difesa o agli esteri mi sembra che siano tutte cose di secondaria importanza che di sicuro non cambiano la nostra gestione anche perché sugli esteri la linea dell'Italia è già super euroatlantica sul resto insomma sono ministeri che non hanno tanti denari al bilancio anche lì se è un Gentiloni bis può davvero fare gli interessi dell'Italia cosa può trattare uno nostro in quella posizione davvero poi è un commissario italiano e non uno che fa interessi di lobby o altro ma sinceramente ho dei dubbi quindi io continuo a io credo che adesso stiano temporeggiando anche perché aspettano le elezioni in Francia per vedere quanto prenderà la Le Pen come uscirà Macron insomma per vedere quali saranno effettivamente gli equilibri io continuo a sperare che si trovino altre alchimie europee